Scatta e sequestro conservativo per l'aggressore di Colaiacovo. Il Tribunale Civile di Sulmona ha autorizzato il sequestro conservativo fino all'ammontare i 250 mila euro nei confronti di BR, il 75enne residente a Bugniara, in vista del risarcimento che sarà dovuto per l'aggressione compiuta il 27 giugno scorso. Il giudice estensore del provvedimento, Daniele Sodani, ha ritenuto che dell'aggressione, come anche delle sue cruente modalità, vi è riscontro dalla documentazione, ivi compresa l'ordinanza cotelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP Giuseppe Ferruccio. Il giudice inoltre nell'ordinanza pone in evidenza lo sconsiderato gesto posto in essere i danni del ricorrente e lacrimonia nei suoi confronti, quindi palesata, traducibile sul piano civilistico in condotte di inadempimento ed elusive del credito risarcitorio sorto in capo all'avvocato ricorrente. Al tal riguardo, le lesioni ipatile del ricorrente sulla scorta della documentazione sanitaria e delle relazioni mediche di parte rendono plausibile una rilevante liquidazione del danno non patrimoniale come anche del danno patrimoniale sulla scorta del volume di redditi dichiarati dell'attività professionale. La prossima udienza della causa cautelare si trà il 7 ottobre. A riguardo del provvedimento di modifica della misura degli arresti domiciliari, il Tribunale dell'esame dell'Aquila lo ha modificato solo perché il figlio dell'uomo si è detto disponibile ad accogliere il padre nella sua abitazione di San Cesareo in provincia di Roma, dove è stato stabilito l'obbligo di dimora. Per questo i giudici dell'Aquila hanno ritenuto che il fatto contestato è obiettivamente grave e denota di per sé un'indole aggressiva e priva di freni inibitori che induce, quanto a riscontro della sussistenza delle esigenze cautelari, a ritenere irrilevante l'assenza di precedenti penali o l'età avanzata dall'indagato ed hanno ravvisato l'intento di vendetta dell'uomo per aver l'avvocato Vincenzo Colaiacobo ottenuto in via giurisdizionale la tutela di un proprio diritto. Molto rilevante anche la circostanza che l'esame non ha segnato al curilievo alle precarie condizioni di salute documentate da 75enne che soffre di insufficienza respiratoria e di una cardiopatia balvolare aortica e questo in quanto tali patologie in precedenza non hanno impedito all'indagato di perpetrare una violenta aggressione di modo che non può ritenersi che il pericolo di commissione di ulteriori delitti contro la persona sia insussistente. Intanto Colaiacobo ha consegnato nelle mani del parroco e presidente del comitato propera Franceschi l'importo di 4.500 euro al quale il tribunale di Summona ha condannato i 75enne nella precedente causa civile. Come già riportato la somma sarà devoluta per il restauro della facciara della chiesa di San Francesco della Scarpa.